Limitare nel fine settimana l'accesso al Corso Vittorio Emanuele di Avellino e altre zone sensibili della città in determinate fasce orarie. La sollecitazione è arrivata dal prefetto Spena e al vaglio del sindaco Festa. Sarà lui a decidere l'aduzione di eventuali provvedimenti volti a contingentare il passeggio in centro e i cittadini già si dividono su quella che per ora resta un'ipotesi. Fa benissimo. Non bisogna chiudere le strade, bisogna avere un po' più di accortenza, bisogna essere un po' più responsabili perché non si possono chiudere le persone in casa. Dipende pure molto dal tempo, credo che l'assemblemento in questo momento non ce ne sono. Voglio dire, Avellino è una città tranquilla, noi rispettiamo le regole, siamo con la mascherina, poi se ci vogliono chiudere decidono loro. Sono d'accordo nel chiudere le strade e le piazze con maggiore affluenza, così come qua ad Avellino e anche altrove, soprattutto nei fine settimana. Capisco le persone che magari non sono d'accordo, però secondo me potrebbe aiutare. Secondo me aiutare il corso è un po' inutile, anche perché gli assembramenti possono essere creati ovunque. Sta a noi persone non creare assembramenti. È stata invece immediatamente adottata dal sindaco di Cervinara Caterina Lengua la chiusura al pubblico nei fine settimana, dalle 18 alle 22, nonché nei giorni festivi e prefestivi fino al 30 novembre di Piazza Trescine, Piazza Elena e l'area antistante alla villa comunale, zone particolarmente frequentate dai giovani. Più in generale, su tutto il territorio provinciale è stato disposto un rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Ieri sono stati quattro i decessi registrati in Irpinia tra Moscati e Frangipane e da lunedì dovrebbero partire i test con tamponi rapidi a Campo Genova da parte dell'amministrazione comunale del capoluogo.